. Nonostante il 4-1 e il bianco celeste, il 24enne spagnolo non ha saputo trattenere le macchine, scoppiando in un bianco di rotto al centro del campo, che ha sorpreso un po'. A cominciare dai suoi confronti, ancora in rari della disgrazia, a riportare la notizia sono oggi diversi giornali tedeschi.Il giocatore spagnolo, fanno sapere, aveva informato poco prima della partita solo lo staff, tecnico e dirigente della improvvisa morte del fratello, ma ha voluto essere intanto lo stesso per ignorarmela nemmeno. Lucas mi ha detto cosa fosse successo prima della partita ma ha voluto giocare a tutti i posti, gli ho chiesto se davvero se la sentisse digitale, gli ho lasciato libero a scelta, il suo dolore ha oscurato la gioia per la vittima. Le parole del tecnico dell'Antracht, Ucchi, e anche il Fiosi della squadra tedesca, Teddy Bogdano, ricorda che il club ha lasciato Lucas libero di scegliere se gettare il meno in lui e ha visitato una partita eccezionale, però dopo la partita l'ha lasciato il compagno e si è unito ai familiari con i quali resterà per qualche giorno, saltando così il match di Bundesliga domenica contro l'Ottomento. .